Allora, buongiorno a tutti e questa è la rassegna stampa di Fano TV. Siamo qui per leggere i giornali, tra pochissimo vedremo il Carlino e il Corriere Adriatico, come di consueto però prima guardiamo il calendario di oggi per vedere il santo del giorno e vediamo chi festeggia oggi, chi ricorda la Chiesa Cattolica. Oggi ricorda Sant'Ignazio da Santiago, è stato un sacerdote, il sole è sorto alle 6.55 e tramonterà alle 19.06. Il tempo per la giornata di oggi, secondo la protezione civile delle Marche, sarà buono, comunque poco nuvoloso, le temperature massime saranno in lieve aumento e le minime saranno invece stazionarie. Ancora un po' di vento di brezza leggera occidentale nelle zone interne, il mare sarà quasi calmo. Per domani, sabato 23 di settembre, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, le precipitazioni assenti e le temperature minime saranno in aumento, c'è ancora un po' di vento. Per domenica ecco il tempo che peggiora, perché avremo dalla tarda mattinata di domenica deboli piovaschi sparsi nelle zone interne per poi estendersi su tutto il resto del territorio regionale nel corso del pomeriggio e assumere anche grattere di rovescio nel pomeriggio di domenica. Le temperature, per effetto anche del maltempo, saranno in diminuzione nei valori massimi mentre stazionarie le temperature minime, quelle della notte. I venti di brezza tesa, mentre saranno diffuse le condizioni di instabilità per lunedì 25 poi migliorerà dalla giornata di martedì. Andiamo a vedere allora i giornali, cominciamo dal resto del Carlino. Notti d'inferno al pronto soccorso, questo è il titolo. Al pronto soccorso di Pesaro si può assistere a tante scene come quelle che vengono immortalate in questi due fotogrammi. A sinistra, lo potete vedere, non si capisce bene che cos'è ma in realtà è un uomo steso a terra, questo signore che ho cerchiato con l'evidenziatore rosso. È un uomo steso per terra al pronto soccorso di Pesaro. E allora, sbandate senza tetto che spadroneggiano dentro e fuori il personale dell'ospedale sottoposto a minacce e anche a prepotenze. I titoli, dalla prima pagina, sempre del resto del Carlino, l'autovelox a Pesaro, l'autovelox che non perdona. Nell'anno raddoppiate le multe, i pesaresi sono tartassati. Anche il targa system per le assicurazioni, sempre in azione, ed è quello che quando passate sotto con la macchina vi dice rileva subito se avete l'assicurazione scaduta oppure no. Ora però dovrebbe arrivare una stretta, dopo le indicazioni del Ministero, l'uso più limitato di tutta questa apparecchiatura, di questa tecnologia, senza agguati, dunque, dietro le curve e maggiore prevenzione. Come dire, non stiamo lì a punirvi, stando nascosti per non farci vedere, quindi per pizzicarvi se fate quello che non dovete fare, ma facendoci in qualche modo vedere per far sì che la nostra presenza faccia da deterrente. La nostra presenza, la presenza delle forze dell'ordine, anche di un autovelox, serva per, in qualche modo, farvi andare più piano. Valentino Rossi ad Aragon, passa l'idoneità. Oggi, oggi si fa sul serio. Il dottore scrive il giornale, è fenomenale, un recupero davvero straordinario per Valentino Rossi. Poi, sull'omicidio Ferri, la sentenza ieri in Cassazione, Andrea, ora giustizia è fatta, confermate tutte le condanne, la reazione del fratello della vittima a Roma. La pagina di Fano del resto del Carlino, la pagina di Fano del resto del Carlino, la vediamo subito, la vediamo subito, eccola qua, bando per assumere disabili psichici, del vecchio critico, parla di discriminazione, aperto per 20 giorni, rischia di non essere visto da tutti gli interessati. Si parla di questo bando del Comune per l'assunzione a tempo indeterminato di disabili psichici. Il centro-destra parla però di discriminazione e trasparenza zero, sono contento, dice del bando, il consigliere dell'Udc del Vecchio, quello che critico però sono le modalità con il quale è stato fatto questo bando, un bando di soli 20 giorni, quando avrebbero potuto essere 60, poco pubblicizzato dal Comune e senza il coinvolgimento delle associazioni che si occupano dei disabili. Questo è l'argomento principale del Carlino di oggi, la pagina di Fano. Poi si parla dei falsi ispettori, anzi false ispettrici, sono donne, di ASET. L'allarme è stato lanciato proprio direttamente dall'azienda ASET che avverte tutti gli utenti e quindi lo facciamo anche noi attraverso il giornale e con la televisione, state attenti perché cercano di entrarvi in casa. È un classico, siamo qui a dirlo una settimana sì, una settimana no. Però ci sono persone, in particolare donne in questo caso, che si spacciano per ispettrici di ASET, però non sono loro. Si tratta di raggiri, quindi c'è questo allarme che si è riattivato proprio a seguito di questo comunicato dell'ASET, dopo che c'è stato segnalato questo comportamento sospetto di due donne che è stato segnalato ieri dall'azienda, all'azienda da alcuni utenti. Sono due millantatrici, due false ispettrici che suonano ai campanelli delle case qualificandosi proprio come nostre addette, spiega Paolo Reginelli, che è il presidente di ASET. Quindi fate attenzione. Terre roveresche, cerchiamo un nuovo poliambulatorio, idee del sindaco Sebastianelli sulla gestione della sanità. Cercare in collaborazione con la cooperativa Articolo 32 Ollus un poliambulatorio sociale dotato di un mezzo di soccorso con medico almeno per 12 ore per colmare il bisogno della nostra popolazione di essere protetta. Questa è l'idea che ha avuto appunto questo sindaco. Sulla politica invece Giancarlo Danna, e qui si fa riferimento alla cena dell'altra sera di cui si è parlato ampliamente anche con la testimonianza fotografica, Giancarlo Danna prende le distanze dal nuovo centrodestra. Giancarlo Danna, lo ricorderete, candidato sindaco nel 2014 con la lista Fano Città Ideale, prende dunque le distanze dai futuri progetti con il centrodestra. Dopo l'ex vice sindaco Maria Antonio Cucuzza, che ha pubblicato ieri un'intervista il resto del Carlino, che non ha partecipato a questa cena di lunedì sera degli ex amministratori delle giunte a Guzzi dal 2004 al 2014, anche Danna, che pure c'era, anche se non ha voluto fare la foto finale, ne prende le distanze. Infatti quando l'abbiamo commentata a caldo, possiamo dire, durante Primo Cittadino, si è fatto un po' fatica a intravederlo. Infatti adesso si capisce, c'era, ma non ha voluto fare la fotografia finale, non ha voluto lasciare questa foto ai posteri. Andiamo sempre sulla pagina di Fano del resto del Carlino. Il nuovo film, possiamo dire così, sì, un nuovo film di Henry Secchiaroli ha iniziato a girare queste scene nei giorni scorsi. Il titolo è Litigi Fano Pesaro sul grande schermo e il regista Secchiaroli sul set per un nuovo lungometraggio in dialetto. Si tratta di due studenti universitari e un amore da ufficializzare in famiglia, parte da Roma e arriva nelle povere campagne fanesi, appunto il nuovo film del regista fanese Henry Secchiaroli. Passando per i salotti buoni di Pesaro, c'è naturalmente del campanilismo in questo nuovo film che si intitola Fate Vobis e del quale si parla sulle pagine del resto del Carlino di questa mattina. Andiamo adesso a vedere invece la prima pagina del Corriere Adriatico sul delitto Ferrier Gastolo a Sabanov. Adesso Andrea riposerà in pace, lacrime da parte dei familiari di Andrea dopo la conferma della Cassazione, definitivi anche i vent'anni di carcere inflitti a Bari, il complice di Sabanov. Dunque c'è questa sentenza ormai definitiva. A centro pagina, braciere acceso, via alle Olimpiadi Under 14 in 4000 Senigallia per la cerimonia di apertura del trofeo Coni Kinder Sport Malagò, fondi per le zone terremotate e pala indoor. Questa è la fotografia sul Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro dove si parla anche del recupero record di Valentino Rossi, i medici di Aragon danno l'ok a Vale, voglio provarci, dice il campione di motociclette. Poi la VL, la VL ha scelto, parliamo dunque di basket pesarese, ha scelto un altro americano per sostituire Irvin e sempre sulle pagine, sulla prima pagina del Corriere Adriatico, sempre da Pesaro, migranti, vertici in prefettura, con i comuni e le associazioni, allo studio un percorso sinergico per l'integrazione, appello di tredici sindaci, ci sono tensioni sociali e c'è anche pericolo per la tranquillità e quindi c'è pericolo. Nella pagina di fano del Corriere Adriatico si parla di Carnevale, questa mattina al Carnevale ci saranno, nella prossima edizione, quella del 2018, quattro nuovi carri e non ci sarà il concorso di bozzetti. Questo è l'obiettivo dell'ente carnevalesca, che organizza il Carnevale. Entro otto giorni si attende anche la risposta di Pesaro sul carro da realizzare su Gioacchino Rossini. Mareflora Giammarioli, che è la presidente dell'ente carnevalesca, ha rinnovato i contatti con il Carnevale di Cuba, ma nell'isola caraibica ha subito l'uragano, lo abbiamo sentito proprio in quei giorni, mentre era lì la presidente con la famiglia Carboni. All'amministrazione comunale di Ricci, quindi di Pesaro, è stato consegnato il progetto del carro di Piccinetti. La ConfCommercial invece sotto si affida ad una donna, presidente Barbara Marcolini, nel ruolo di vice Luciano Cecchini e Martina Carloni. Questa è la fotografia, quindi tocca ad una donna ed è la prima volta appunto che alla ConfCommercial di Fano c'è e siede, presiede una donna. Liste di attesa, sempre dalla pagina di Fano, liste di attesa dopo due anni la verifica degli impegni. I 5 Stelle rivendicano informazione e rispetto di tempi prescritti e diritti, le attese determinate da una inadeguata applicazione delle norme e scarse conoscenze. Poi i 1.500 caffè gratis per i ciclisti del centro, ieri il tagliando distribuito dalla Protezione Civile, oggi ci saranno passeggiate e Infopoint. E andiamo adesso sull'altra pagina del Corriere, con la notizia, la bella notizia, la buona notizia, che quella bambina di 10 anni che ha avuto l'incidente insieme alla mamma l'altra sera, mentre rientravano e stavano tornando a casa, lì sulla panoramica dell'ardizio, la bambina di 10 anni migliora. E quindi questa è davvero una bella notizia. E il giornale, il Corriere Adriatico, racconta di questa raccolta fondi, ma è una raccolta fondi che, se vogliamo, è una raccolta fondi fatta dai genitori, dei bambini che hanno i propri figli, che vanno a scuola con questa bambina di 10 anni, che come segno di solidarietà hanno attivato questa raccolta fondi. Ma per acquistare un regalo, insomma, niente di particolare, insomma, ecco, un bel gesto questo sicuramente, ma ecco, non è una raccolta fondi chissà per fare che cosa. Le sue condizioni, dicevamo, migliorano. Massimo Foghetti, sul Corriere di questa mattina, ci dice che stanno migliorando. L'ematoma cerebrale, riportato durante l'impatto, si sta riassorbendo, quindi progressivamente, mentre è sotto particolare osservazione un altro ematoma che è apparso sul collo, che se non si attenuerà spontaneamente, dovrà essere comunque operato. Poi tutti gli altri dettagli, se li trovate, acquistando il giornale questa mattina in edicola. La pagina della Valle del Cesano, invece, è su Mondolfo, quell'assedio di 500 anni fa, analizzato sul piano storico, è un convegno programmato a Sant'Agostino e conclude le celebrazioni dell'anniversario. Tutte le iniziative sono state accolte bene, molto partecipate, ha detto Nicola Barbieri, che è il sindaco di Mondolfo, l'assedio di Mondolfo e la guerra di Urbino, stiamo parlando del 1517. Ecco, nella ricorrenza del quinto centenario c'è questo incontro con gli organizzatori, che è un bellissimo incontro, interessantissimo incontro, un episodio del 1517, decisivo, tra l'altro, per la storia dell'Italia centrale. E poi, ancora cronaca, con la notizia che domani ci sarà il funerale di Nello Tonelli, l'uomo di 77 anni, il paziente dell'ambulanza morto dopo l'incidente che lascia la moglie e figlia. Quindi c'è questa notizia che si svolgerà domani alle 15 nella chiesa di Pantana, il funerale di questo paziente malato oncologico morto la notte tra sabato e domenica, tre giorni dopo l'incidente in cui è rimasta coinvolta l'ambulanza che lo trasportava insieme alla moglie. Sempre dal Corriere Adriatico, primo obiettivo invertire l'attuale calo demografico da terre roveresche, il sindaco annuncia le linee programmatiche, le misure per famiglie e anziani, mentre qui vedete Beppe Grillo mentre posa con un ristoratore di Torrette, Beppe Grillo prima di arrivare a Rimini, dove da oggi a domenica si terrà la convention nazionale Italia 5 Stelle, ieri si è fermato appunto a Torrette per mangiare un po' di pesce. Senigallia, case popolari, l'odissea è finita, c'è l'assegnazione alla Cesanella, il 25 settembre possono cominciare finalmente i traslochi nelle due palazzine realizzate da Erap, e poi la brutta notizia è che purtroppo, essendoci ormai da tantissimo tempo questa crisi di vocazioni religiose, oltre che sacerdotali, purtroppo le suore dell'Ada Bianchi a Senigallia se ne vanno. Le suore dell'Ada Bianchi lasciano dunque Senigallia un'istituzione per la città. Ieri si è tenuta una santa messa presieduta dal vescovo Franco Manenti e dal vescovo emerito Giuseppe Orlandoni e da tutti i pari che si sono dati il cambio in questi anni alla parrocchia della pace. E purtroppo se ne devono andare perché insomma le crisi c'è e purtroppo è questo, ne chiudono tanti purtroppo. Il Ministero invece, l'ultima pagina da Pesaro, il Ministero finanzierà il Museo di Rossini, annuncio dalla Regione Marche pronto un milione di euro verrà realizzato dal Comune e dalla Fondazione. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30, il 338-4968-250 come sempre a vostra disposizione per le segnalazioni e consentitemi di davvero ringraziarvi perché siete in tantissimi ogni giorno a dirci ciò che accade attorno a voi con fotografie, con semplici messaggi di testo, con dei video e quindi ci date davvero una grossa mano e vi date una grossa mano perché poi fare un telegiornale non è sempre una cosa semplice, non è facile, non siamo la Rai, non è Mediaset, non è Sky, siamo una piccola televisione che cerca ogni giorno di fare del suo meglio per portare a casa l'informazione e cercare di farla al meglio e allora il vostro aiuto per noi è un aiuto molto prezioso. Grazie davvero di cuore. Ci fermiamo, adesso c'è la sigla, noi ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.